l'ho scoperto ma non è un po' più bello 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 ho fatto un nuovo video di Mostra in giù super grossi questa volta l'ho zaccato allora ovviamente partiamo per primi perchè ce l'ho doppiato ah...indoppiato quindi ovviamente sembra però devo partire ok un po' dopo così riesco ad andare lì dietro perchè Bassenge va troppo per partire qui così vedete la fine che fa tutto quello ecco era la mia così almeno guardate non sarò primo ma almeno mi faccio la mia gara tranquilla un già secondo la probabilmente cadevo era ancora ultimo mi sarei caduto di sicuro comunque è rallentato ok giù prima non va bene ok adesso inizia la recuperata di tempo su la gente così da doppiare a finire anche il secondo voglio piove voi andate piano mi raccomando io vi doppio ho sbagliato ho sbagliato da parte non è scordato vabbè vabbè sono ancora a 14 minuti dai non è scordi non è scordato su 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 ragazzi un colosso di sporchi ma vabbè è la vita dai dopo ti lavavi che niente dai ho rallentato un po' così ho preso meglio il salto che palle mi ha fatto ripartire lo sapevo ok prendiamo la larga quindi guardiamo di fare anche bene i tempi di tirare per farli allora il migliore per ora è uno uno preciso però comunque uno vediamo adesso ma dai in teoria adesso dovrei far meglio migliore perché prima sono anche caduto più o meno non è che lo tollo lo abbasso di tanto ho sbagliato qui i salti prima no io non è che lo abbasso di tanto però un po' lo abbasso non sono certo di due secondi vabbè eh ho preso male qua ok vediamo di farla bene eh questo giro eh ho proprio sbagliato ma tutto no no questo giro vado sotto se non faccio bene qui vado sotto sicuro se no potrei eh no niente vado sotto fatti fatti un po' forse un po' meglio di prima ma fatti male fatti male eh vabbè ho preso anche questo fatti ho sbagliato l'inizio già eh ma qua 58 forse lo abbasso ma di poco ma è difficile da passare 58 però comunque c'è già 20 secondi dal secondo va bene ok qui l'ho fatto bene stavolta prima no per ora per ora stavo dicendo per ora stavo andando bene invece adesso vabbè eh niente dal giro però si fanno così i soldi qua da rallentare le due sono cadute per fare bene quei soldi lì 57 e 58 eh niente 58 alla furba vediamo un po' eh niente ho fatto male questi questi ratti male vabbè c'è 10 minuti per fare un bel giro ok ok si va bene questo l'ho fatto bene adesso arriva al punto difficile no no così così ho perso ancora di più siamo matti vabbè quello l'ho fatto bene ma eh niente ho perso tutto lì eh però sto per doppiare gli ultimi sai che però ho un po' no però era andato bene questa volta eh facevo un po' meglio l'inizio e eravamo al posto eh solo che è difficile fare bene all'inizio eh hanno tirato in mezzo qualcosa ma hanno fatto prendere la curva più lunga più larga non lo voglio dire ok ho preso bene questa parte eh ma adesso sarà impossibile fare i miglior giri perché ci sono sti qua in mezzo perda mi hanno già fatto perdere tutto qua però l'ho fatto invece in un secolo e questa cosa va molto bene ma perché vabbè ce li ho trovati solo alla fine quindi vabbè ci sta che l'abbia fatto ma adesso sarà difficile ok vorrei far nuotare i 40 secondi dal secondo ma perché devo non buttare in là qualcosa dai levatemi un po' lo devo passare e questo si mesce in mezzo ho fatto di pochissimo però ok dai levatemi un attimo eh c'è io qua eh si deve slillare un pochino perché è un po' in mezzo vorrei farne fare questo qui al quinto eh sto doppiando il quinto mi mancano ancora 7 minuti ok ok l'ho fatta bene questa parte ci potevo fare meglio forse però l'ho fatta dentro questa è la seconda l'ho sviata ok ho tirato giù l'altra seconda adesso non dovrei più trovarmi tanta gente in mezzo per questo giro almeno se no se no mi ripassa questo qua che può essere eh cioè ecco infatti no questo giro non fa il migliore non si fa ho perso lì prima ho perso lì prima e poi qui mi hanno un po' della quella ah il live di all'ora sì così no ho fatto male anche se salti qua mi hanno fatto il migliore eeeh giro ah sono a 50 e sono ancora qui eh ho fatto bene qui però non ce la faccio eh no con il 56 o se la faccio con il 57 niente sto sbagliando con la curva eeeh 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 si dai qua l'ho fatto bene però niente già va chukà eeeh 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 Eh, se sono a 55, ancora qua No, no Però l'ho fatta bene in questa parte Ah, è impossibile buttarlo più giù del 56, cioè Guardatemi dirlo Lo devo dire Cioè, se non faccio bene quella parte lì Poi ancora di più Ok, però questo l'ho fatta bene stavolta Se faccio bene tutto il resto, ce la potrei fare Ecco, questa qua forse non è che l'abbia fatta troppo bene Però, sì, si può andare Ora Ci può andare Guardate di quanto si abbassa in un altro secondo Se riuscite a fare bene in questa parte Che solo non voglio togliere casa alla fine Perché se tolgo casa alla fine ho quella di non farlo C'ho 72 sul secondo Punto serio Sto triplando della gente a tre minuti Un'altra gara spettacolare Vai che lo sto facendo bene Solo che adesso vado a doppiare sta gente aglia qua In mezzo alle balle Viene Levati dai Fammi fare un altro bel giro Eh, niente Mi ha fatto sbagliare Mi ha rallentato all'inizio Ce la potevo fare però Però visto che Avevo visto di non riuscirci Perché non ho tolto gas Così magari facevo bene questo Dai Martì Levati dai maroni Ok Adesso ho trovato un altro gruppetto di rompiballe Ok, non penso che li ho passate abbastanza bene Adesso ci mancano questi Vediamo Come posso fare Ho frenato troppo adesso Cioè Valle Ho frenato troppo E manca un minuto Ai due giri L'ho fatto male Tutti questi Niente miglior giro Neanche stavolta Ho fatto male tutti quelli Ho fatto male questi E Per metà Ok Ok Non ho fatto malissimo questi C'ho 126 secondi da l'ultimo Un po' lo quadruplo Grazie Grazie Mille tizze Vabbè niente 55 è il migliore che devo fare Mi sa proprio di sì L'ultimo giro Vabbè Ci guardateci The best Vabbè L'ultimo giro L'ultimo giro Ehm In testa la gente Deve andare Sai che se non andavo in testa Forse lo passavo di qualche centesimo Sì 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 Magari Anche se non mi buttava fuori Vabbè Vediamo quanto Dato Vediamo 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 3 giri in meno Hanno fatto E gli ho dato 3 secondi Gli ho dato 200 centesimi Anche che ho fatto 3 giri in meno Siamo matti Con 16 giri Con un giro in meno Quarantasei secondi 5 punti Siamo quasi 200 punti Anche che ho fatto Non ci vediamo Anche che ho con il prossimo video Sì, 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 sì.